Nei terreni acquisiti da TAP lungo il percorso futuro del gasdotto saranno avviate nei prossimi giorni quelle buone pratiche agricole necessarie a contrastare la diffusione della xylella e in particolare la potatura degli ulivi e quanto si legge in un comunicato diffuso da TAP Trans Adriatic Pipeline. In attesa dell'approvazione da parte degli uffici competenti del piano di gestione degli ulivi TAP è comunque tenuta a ottemperare alle previsioni del decreto del ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali del 19 giugno 2015 riguardanti le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di xylella fastidiosa e in particolare a quanto disposto in merito a ulteriori misure di contenimento. In tal senso gli impianti di olivo devono essere condotti nel rispetto delle buone pratiche agricole e devono essere sottoposti a periodici interventi di potatura. Le attività si svolgeranno nell'area del futuro cantiere del microtunnel dove alberi di olivo presenti nei terreni acquisiti da TAP sono stati sottoposti nelle scorse settimane a valutazioni fitosanitarie per determinare la presenza di eventuali infezioni da xylella. Fortunatamente va sottolineato che al momento tutti gli ulivi appaiono sani e dunque le attività di prevenzione che verranno svolte a partire dai prossimi giorni saranno ancora più importanti per assicurare che gli alberi non siano assaliti dal batterio. Le operazioni sul campo avranno una durata di circa 15 giorni salvo contrarie condizioni meteorologiche e verranno svolte da un'azienda specializzata del territorio.